Io non ci posso pensare, più ci pensare e più mi viene, non so se devo piangere o devo ridere, e nemmeno che se lo racconta un amico, quello si gioca i numeri a bambolotta e probabilmente vince pure, ma tutto a me mi devono capitare, avanti, avanti. Marisciallo, io ho rifatto le fotocopie, però vi raccomando, non le perdete un'altra volta. Grazie, grazie. Appunto, a voi vi piacciono gli animali? Gli animali? Come no, vado pazzo per gli animali. Tengo cani, il gatto, tengo due uccellini, tengo le tartarugine e tengo persino un corvo. Un corvo? Eh, ma l'hanno portato all'Inghilterra, come sapesse come affezionato. Guardate, troppo cari, troppo bellini, in Inghilterra i corvi li portano fortuna. Ah sì? Eh, troppo belli, a me mi piacciono troppo, assai gli animali. Mi piacciono, eh? Assai, assai. Lo volete un pinguino? Un pinguino? Eh, dove è uscita questo pinguino? L'ho trovato ieri sera, mentre tornavo a casa, davanti alla macchina, per poco non l'ho immersito. Mi ha fatto una pena, ma ci pigliate un braccio e mi ho buttato a casa. Ve lo porto? Un pinguino? Eh, senti, io non so neanche dove incominciare con i pinguini, io con tutto il cuore me lo prenderei. Mai devi andare in manuccia a casa, quelli litigheranno tra di loro. No, no, ma proprio non posso, non vengono pochi spazi, guardatevi, aiuterei. Ehi, ma non è possibile. Non potete? No. Ehi, come ne faccio i stupi inguini? Eh, portatelo allo zoo. Eh, domani lo porto allo zoo e dopo domani, dove lo porta? Al cinema.